ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo una gara di cinque giri qui sul piccolo Le Mans all'Atlanta con queste Alfa Romeo 8C no sono partito in anticipo provate atlanta un circuito che mi piace particolarmente insieme a Imola chiamato il piccolo Le Mans anche perché qui si fanno delle gare di endurance multiclasse guarda qua che soffasso raga mamma mia lungo vabbè ciao e vediamo cosa riusciamo a fare in questa gara con questa IA su assetto corso strisciatina vediamo attacca l'interno vai bella vai abbiamo il favore della traiettoria però siamo usciti male ragazzi proviamo a farlo in quarta ciao amico che hai problemi ma no mamma mia come è partita mi sa che mi ha toccato qualcuno ma non importa siamo sempre in gara ho messo la griglia random ma ho messo in quarta posizione ma vaffan***o ma vaffan***o 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 il favore della traiettoria ok qua si gira facilmente quest'auto molto leggera sgorbutica vediamo l'attacco stiamo alle calcagne ok ok qua si frena forte di terza per uscire no va bene dai raga sbavatura enorme del fabbri qui si passa una marcia in più che sennò se ne va via sta macchina che cacchio freni ma no ma perché hai frenato non si frena lì ma m***o ma m***o cinque giri oh questo è un circuito molto complicato qui in realtà è virtuale e qui sia a sinistra devo fare attenzione dai che la facciamo in quarta questa ragazzi vediamo se possiamo attaccare sulla destra uh dove è partita no no ahahahahah non ce la faccio più stu cazzi altro che bellissimo famosissimo circuito chiamato anche il piccolo le man attenzione aggressività 92% della IA controllo del fabbri in realtà virtuale è una figata malgrado ci siano 15 auto più la mia è molto fluido intanto ho una difficoltà con controllare l'auto attenzione che qua mi attaccano da tutte le parti e io mi devo difendere l'aggressività dei miei qui bisogna fare attenzione perché la IA è molto 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 aggressiva eccola ve lo vedete a sinistra qua non si non cede la posizione brava brava lotta lotta intanto ti vengo a prendere uh è sgorbutica st'auto senti come sgorbutica chicco io la prendo di quarta e ti lascio dietro no 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 ma porca miseria ragazzi vai bella vai ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video io ve lo ammetto questa è la trentasettesima volta che provo a fare una cavolo di gara con queste fantastiche 8c l'ho riveduto un miliardo di volte nelle registrazioni mod fantastica in questo road atlanta che mi piace da morire che ho accorciato le marce vediamo se questo cazzo di live adesso riesco a farlo a concludere una gara eh c***a c***a nuovo video io sono Fabrizio e questo oggi vi propongo di fare 5 giorni insieme a me su questa splendida alfa rame 8c gt3 su road atlanta uno dei miei circuiti preferiti insieme ad imola ma questa è doppia mod praticamente con una ia super aggressiva occhio a sinistra e a destra tra due fuochi ma il fabri se ne esce più o meno bene eh stica eh controllo in accelerazione eh che è natale si si è natale attenzione questa è a destra mamma mia ecche qualche partenza ragazzi che inizio gara qui alla road atlanta come vi dicevo uno dei circuiti dei miei circuiti preferiti qui si fanno gare multiclasse lo chiamano il piccolo Le Mans mi piace per la sua tuorctuosità la sua parte diciamo mista curve cieche insomma c'è un po' di tutto anche la parte veloce qui ed è per questo che mi piace tantissimo ma poi queste auto questo circuito si prestava davvero molto bene all'esterno il fabbri attenzione l'attacco perentorio no vediamo se riesco a incrociare no all'esterno anche qui e se avete sentito questo è il mio record personale in questa pista ancora all'esterno incrocia e magari mi vado a prendere ma non è possibile che non posso concludere una gara oh ma non è possibile che non posso concludere una gara oh e siamo partiti attenzione qui alla prima curva una via molto aggressiva minchia non ce la farò mai oh occhio qua fabbri sinistra no rifacciamo occhio che questa 8c è molto sgorbuta se non è la magane ebbe un nicchio mamma mia ma qui noi siamo molto veloci attacco l'interno eeeh ho dovuto alleggerire no no questa era bellissima ma dai la prova all'interno la macchia qua devo frenare che non parte via e guadagno una posizione ragazzi guadagno una posizione mamma mia cazzo oh mamma mia no 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 ma no dai no porca puttana cazzo era bella pure questa ma quale replay guadagno acceleriamo progressivamente via cerchiamo l'interno perché qua si può attaccare ah ah si è attaccato e qua eh ragazzi a sinistra incredibile non molla niente bravo vabbè però cazzo non si può fare un cazzo porca puttana vai vai dobbiamo star di dietro che questi scappano via ma perché si scompone così dove cazzo si scompone così come si scompone così voglio capire io come cazzo fa a scomporsi fare una staccatone per recuperare un po' uh no vabbè va basta ragazzi la cinquecentesima volta che cerco di fare sta gara non ce la faccio non ce la faccio ogni volta c'è un incidente qualcosa quindi ragazzi vi ringrazio per aver seguito le mie disavventure era solo per farvi apprezzare un po' questa spettacolare mod senti qua senti che audio da Fabrice è tutto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi baffaculo ciao